È scomparso venerdì scorso, all'età di 81 anni, Antonio Zucchi, figura storica dell'imprenditoria Aretina, per anni alla guida della 1AR, presidente di Confindustria Arezzo. La famiglia ha preferito diffondere la notizia a funerali già avvenuti le esecue in Duomo, in forma privata. Zucchi era l'erede dei fondatori della prima azienda Orafa Aretina, uno sta proprio per quel numero che rappresenta l'avvio dell'era dorata di Arezzo. La 1AR viene fondata il 15 marzo del 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. Danno vita alla Gori e Zucchi con i primi laboratori nell'antico centro storico di Arezzo, poi il 2 aprile del 1934 viene attribuita alla società la numerazione obbligatoria da imprimere su tutti i prodotti e come azienda Orafa della provincia di Arezzo ottiene la 1AR, sigla che poi scritta per esteso diverrà a tutti gli effetti il marchio e la denominazione della società. A raccogliere il testimone poi saranno Antonio Zucchi e Vittorio Gori. Negli anni 60 l'azienda vive il momento di maggiore espansione e lo stabilimento si sposta nella sede di Via Fiorentina, oggi purtroppo ne rimane solo lo spettro. La 1AR oggi è di proprietà della famiglia Squarcialupi, ancora un'importante realtà del panorama imprenditoriale aretino e da lavoro a oltre 300 famiglie. Tutta Arezzo deve qualcosa alla famiglia Zucchi, afferma Cristina Squarcialupi. Le comunità della 1AR e della Chimet le devono una parte importante della loro storia. Con Antonio scompare un pezzo di queste comunità e un pezzo della città di Arezzo. La sua famiglia è la capostipide del distretto Orafo Aretino e quindi Antonio non posso dire che fosse un amico perché la differenza di età tra me e lui era elevata, ma ci conoscevamo bene, ci stimavamo. E' stato un uomo che ha raccolto un'eredità molto importante e ha vissuto anche momenti delicati nella sua carriera di imprenditore, ma sempre affrontati con grande intelligenza e grande coraggio. E credo che con la sua scomparsa scompaia veramente un pezzo della nostra città.